Sindaco, è stato ufficializzato, 964 intrepidi, più il sindaco o compreso il sindaco? Più il sindaco, perché il sindaco di solito viene dato fuori numero e dunque questo fa capire che ormai è un evento che si consolida nel tempo. Questa è la mia ottava edizione dell'intrepida e devo dire che per me è sempre una grande emozione. Vedere questa piazza, la piazza dei Mille, proprio sotto Garibaldi, è un'inascine, è un'atmosfera particolare. E poi devo dire che sempre più l'intrepida si sta internazionalizzando, non è un caso che quest'anno ci sono 50-60 persone che vengono dagli Stati Uniti d'America. Dunque questo per farvi capire quanto è importante l'intrepida oggi e quanto è ormai diventato un prodotto turistico. Il clima è intrepido e ci vuole anche questo qua, i percorsi sono belli a posto ma saranno intrepida senza polvere e che dire, sarà una giornata anche oggi bella, piena di emozioni e di condivisione di emozioni. Anche vediamo tantissime signore. Sì, quest'anno con la promozione che abbiamo fatto l'8 marzo noi che abbiamo partito in iscrizione abbiamo avuto il primo giorno 152 donne iscritte, quindi per noi è successo e vedere anche tante donne alla partenza è molto molto bello. Tutto bene, anche le 600 si comporta sempre cresciamente, quindi quest'anno invece della polvere i miei, quelli che vengono dietro si lamenteranno dei schizzi, ma purtroppo le strade sono così e poi i ciclisti sono abituati alla sofferenza, quindi noi che siamo davanti un po' che ogni tanto gli diamo un po' noia ma fa parte del gioco. Grazie.